Non si è fatta attendere la risposta del presidente Obama dopo la strage di New Town in cui persero la vita 20 bambini e 6 adulti e di cui oggi si celebrano i funerali. Il presidente ha deciso di appoggiare la proposta di legge della senatrice democratica Diane Feinstein per introdurre il bando delle armi di assalto sul modello della legge voluta da Bill Clinton e scaduta nel 2004. La misura è contro la vendita, il trasferimento, la produzione e l'importazione di un centinaio di modelli di armo d'assalto. Un progetto in questo senso verrà presentato al congresso in gennaio, è stata la stessa Casa Bianca a comunicarlo. A Washington intanto, che lunedì ha già visto in piazza i familiari delle vittime delle più recenti sparatori americane, va in scena anche la protesta contro la NRA, la potente lobby delle armi, non estranea il mancato rinnovo del provvedimento Clinton, che ora tace ma incassa il ribasso dei suoi titoli in borsa.